Rally Legend ha fatto il boom di presenze e di spettacolo. La 21esima edizione ha fatto registrare numeri da record con migliaia e migliaia di appassionati sulle prove speciali e al Village per fare il tifo e ammirare da vicino i grandi protagonisti. Vetture che hanno fatto la storia del rally, una manifestazione unica e irripetibile. A partire dalle Legend Star, le apripista che ci sono prese la scena con derapate e curve ad altissima velocità. La Latvala a Sordo passando per i campioni Rally Cross, Vaibi e Christoffersen. Non poteva mancare poi Paolo Diana, come sempre uno dei più acclamati. E poi la gara con le tre categorie Classic, WRC e Historic. Nella prima è arrivato il successo di uno dei più attesi, Toni Cairoli. Il nove volte campione del mondo motocross è tornato a Rally Legend e ha trionfato dopo una grande battaglia con l'argentino Marcos Ligato. Sono stati 12 secondi di distacco tra i due, entrambi sulle Subaru in presa 5-5-5, tanto care al grande Colin McCree e che quest'anno hanno festeggiato il trentennale proprio a Legend. Sul podio anche un'altra Subaru, quella dell'uruguayano Gustavo Treges. Tra le WRC è stato un dominio assoluto di Luca Pedersoli. L'alfiere Citroen sul titano con una C3 WRC Plus ha vinto nove delle dodici prove speciali disputate, rifilando oltre un minuto e quindici allo svizzero Sebastian Caron al volante di una Skoda Fabio R5. Terza posizione per l'altro pilota elvetico Mirko Puricelli con la Citroen DS3 L2011. Grande battaglia tra le storiche. Alla prima presenza a Rally Legend trionfa Matteo Musti, che solo due settimane fa aveva conquistato il campionato italiano autostoriche. Lotta tra Porsche con Simone Brusori, che vincitore lo scorso anno si è dovuto accontentare della seconda piazza a circa 28 secondi di ritardo dal leader. Ha fatto il massimo invece Stefano Rosati. Il pilota san marinese con la sua storica Talbolotus dell'81 ha ottenuto l'ennesimo podio nella gara di casa, ma oltre ai risultati Rally Legend è stata una parata di campioni, un museo a cielo aperto, un evento preso d'assalto da chi vuole rivivere la storia. Una formula vincente che è come il vino, più invecchia, più migliora.